e bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono mattia32000 e oggi siamo in un video su dragonborn rage su una questione bella 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 del nuovo evento corrupted insomma la data di questo evento sarà il 26 ottobre verso mezzogiorno fino alle 5 di pomeriggio in teoria sì allora compare qua poi compare dopo 3 anni compare qui proprio qui proprio qua nell'angolino e poi qua da goku se riesco a incontrarlo forse vi faccio anche vedere com'è e lui si ferma proprio qua in mezzo ecco il boss spunterà quando sarà notte quindi poi sarete pronti e non è tra questi boss è la nel vulcano è proprio là dove abbiamo dato il keyblast proprio là ecco proprio l'astra quindi allora aspettiamo la notte così vi faccio vedere il boss e a tra poco allora raga mi sono sbagliato e non finisce alle 5 ma alle 2 perchè non stava più spawnando e vabbè vi faccio vedere solamente il corrupted che è così ecco vabbè vi faccio vedere la lunga ecco qui vi faccio vedere la lunga lagga un po' eh perchè sai ecco qui funzioni rapidi ed ecco fatto questo è l'evento e ciao raga del likes e addio fancy Resources fancy fancy fann bump fancy fancy f십 f Ashe f f f f f f a f f руж